Il capitano Fefe Garnica, fresco fresco dopo il discorso del presidente Raduno della squadra, qual è stata la prima impressione a fare così, a caldo? Buono, molto positiva. Diciamo che abbiamo messo bene in chiaro quali sono gli obiettivi, che fare sempre un passo avanti. Quindi l'anno scorso siamo arrivati in due finali. Quest'anno almeno una, bisogna fare tutti i modi per vincerla, quindi contenti, carichi, e vedo molta positività. Ecco, quest'anno il tuo compito sarà particolarmente difficile perché ci sono dieci nuove persone, se non erro, nel roster. Quindi qual è la ricetta, capitano, per unire e creare coesione di squadra? Pian piano penso che conoscerci ognuno. Dipende da me, da tutti, credo che sarà anche dai nuovi farsi conoscere nel bene, nel male, per un modo di dire, no? Ci si confronterà. Penso che quando uno dei giocatori hanno ben chiaro il discorso di anteporre sempre prima il noi, all'io, si possono raggiungere grandi obiettivi. Qua tanti ragazzi già ci conosciamo di essere avversari, con alcuni no, ma penso che già da subito stiamo creando un feeling che ci potrà portare avanti e fare belle cose. Ecco, quanta voglia si ha di cominciare? Tanta. Sono già passati tre mesi di vacanze, adesso penso che giusto con il nuovo inizio del campionato si riparta. Sarà una lunga attesa, un lungo pre-campionato, visto che ci attendono due mesi, però ci darà la possibilità di creare questo nuovo gruppo, abituarci a questo nuovo pallone e prepararci per bene per l'inizio del 20 ottobre.